Anzi, nel prossimo video ci vestiamo così, ci mettiamo al braccio e cominciamo a cantare Mi bandito, casterito Mi bandito, znamenito, mi strillato pistoleto Ah ma è un cartone animato? Oh è Fratelli Dato, un cartone animato del paroletto Beh è un cartone animato che inizia proprio in maniera salutare per i bambini, grazie E il pistoletto? Ma in che senso? Ma come? Cioè sono due banditi? Non so che li trovo inquietanti però Sono due banditi? Tipo la banda Bassotti? A parte che si esatto, a parte che questi qua sono proprio... Tipo la banda Bassotti? Tipo la banda Bassotti, povero cane Ma cantano un po' in italiano? Si, pseudo italiano Comunque mi ricordano, come si chiamano, i fratelli Dato Erano quelli che stavano, uno più... Siano anche gli uchi e i fratelli Dato Caro è vero, grande Casterito, sembra più spagnolo Oh yeah Me strillando Vivando un gran anno non farò capito E poi cantano in spagnolo, tra l'altro, senti sotto Io ho parole in italiano, non ne capto manco una Io un po' Però mi piacciono le canzette No, non mi piacciono le canzette Oh yeah Oh yeah Bella, mi piace Ma secondo te è così che ci vedono... Tipo i mafiori italiani sono visti così in Russia? Ah no, dai Sì sì Come sì? Sì Ma davvero? Mi bandito... Mi bandito... Casterito Così? Però altro Scusa, perché loro stanno cantando le parole russe Però aggiungono le disidenze italiane Quindi bandito, Casterito Sarebbero italiani questi qua? Sì, tipo banditi mafiosi italiani Ma pensa a te! Quindi voi pensate che questo sia l'italiano Ma Cristiano cantando in italiano? Pistoletto? Pistoletto C'è un braccio italiano proprio zero zero Non ha niente a che fare con l'Italia Nooo No A me ricorda più una cosa messicana sinceramente Vedendo così Sai banditi, cowboy C'è un po' stile cowboy anche Sì, ricorda un po' più i messicani del far west Ecco Ma anche come abbigliamento Sì ma... Tipo il mafioso allora dovrebbe vestirsi tipo con il leone Tipo con la giacca, la cavatta, queste cose Cioè la camicia... La darlechino Il gangster era molto più... Gessato Gessato Cappello 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 Beh diciamo che se i criminali italiani fossero così sarei anche contenti Cioè... Sì no, in effetti sono anche abbastanza divertenti Era il borsalino magari era anche il tipico del gangster quello che portavano il borsalino Era un cappello Esatto L'abito proprio gessato, cappotto lungo Esatto Mentre invece i picciotti eravano più la coppola La coppola Diciamo il marinario Ma il padrino l'avete visto? Sì Bandito Bandito Sì sì Bandito e momento Basta Due parole E' tutto giusto Tra l'altro scusate quello grosso sarei io quindi Tra i due direi proprio di sì Guarda che camminata che hai Sì I bandito Casterito Che impienerezza dai no troppo divertente Bello mi è piaciuto un sacco questo cartone Carino No ma è piacevole da vedere Però ecco se ci vedono così Studiate ragazzi Fate via vedere due film Esiste Google ormai Sì